Ho iniziato a lavorare nell'89 e per questi primi otto anni ho girato vari studi, studi tecnici, di progettazione, ho fatto esperienza sia di progettazione che di cantiere, ho fatto tutto quello che serve per poter diventare un architetto, speriamo di esserlo diventato. Dopodiché ho avuto la malaugurata idea di insieme al mio amico bravissimo al computer, perché io ancora oggi progetto con la matita e con la china, perché il computer per me è un elemento di verifica e abbiamo aperto questo studio nel 1997. Nel 1997 piano piano siamo stati fortunati, sono stato fortunato perché subito ho riscontrato e ho avuto la fortuna, come vi ho detto, di avere subito dei clienti abbastanza importanti che mi hanno fatto fare cose gratificanti e anche perché no economicamente vantaggiose. E quindi mano a mano lo studio è cresciuto, sono passati da un collaboratore, sono diventati prima 5 poi 6 e adesso ce ne abbiamo 10, un piccolo studio che però si dà da fare, opera a 360 gradi, questo è il mio concetto fondamentale. L'architetto deve saper fare tutto, dal coordinamento alla progettazione al cantiere, perché se uno non sa non può spiegare agli altri che cosa devono fare. Detto questo siamo arrivati alla soglia di questi 20 anni e ho detto celebriamo, perché oggi come oggi un libro professionista, uno studio di architettura, in questi momenti, continuare a lavorare con una certa continuità e non avendo mai avuto un giorno senza lavorare, trovo che sia una grande impresa. Certo, si tende sempre a migliorare, speriamo sempre di continuare così, spero per altri 20 anni se non di più e devo dire che sono molto contento di quello che ho fatto, sono devo dire molto orgoglioso di quello che ho fatto, sono chiaramente figlio di architetti, nipote di ingegneri e architetti e spero che mio padre, che non c'è più e tutti quelli che mi hanno preceduto, siano orgogliosi di me. Con questo vi ringrazio.